Svegliati Alessandria, oggi è il 7 luglio 2020, ci troviamo qui in strada Carlo Forlanini, sempre nel comune di Alessandria e abbiamo avuto diverse segnalazioni di nostri concittadini che ci segnalano dei buchi sull'asfalto veramente pericolosi, questo è il primo. Tutta la strada è anche tra virgolette bombardata, anche se ti giri vedi troppio. Guardate che roba, adesso mi giro da quest'altra parte, questo è l'altro pezzo alle nostre spalle, completamente sconnesso, come potete vedere dalle immagini. È molto pericoloso anche per motociclisti, anche per persone che vanno in bicicletta, l'automobilista ovviamente, ci sono dei dislivelli anche di 7-8 cm, da 5-8 cm. qui, sospensioni, gomme, parte tutto, se vai a una certa velocità, ma anche a una velocità normale. Siamo in prossimità, professore, del presidio ospedaliero Gorsalino, che è lì, dietro queste fronte, appena dopo il cavalcavia. Guardiamo, avviciniamoci un po' senza farci ammazzare. Guardate qua, guardate queste rugosità, guardate. Ecco che c'è un ciclista anche che sta arrivando, è molto pericoloso, è molto pericoloso. Attenzione ai buchi. Mi pare, professore, che però lì all'inizio ci sia un cartello, ma è caduto. Forse segnala la pericolosità di queste buche. No, qua, le segnalazioni che ci hanno fatto, continua a riprendere. Si, no, si nota chiaramente. Guarda là. Dei buchi molto pericolosi. Proviamo a vedere questo cartello, che cosa indica. E' un pericolo generico. Lo teniamo su, se ci riusciamo. Ci vorrebbe un peso. Con il vento. Rischia anche di andare in mezzo alla strada. Certo, certo. Lo ancoriamo qua, dai? Magari poi ci dicono anche qualcosa. Lo ho ancorato qua, al Gertraire, perché con il vento può anche portarlo qua. L'ho fissato qua. Cosa chiediamo a questo punto? Chiediamo. È evidente, no? Le immagini parlano da solo. Chiediamo quello che vi dicono le immagini. Ci aspettiamo quanto prima. Anche i due ciclisti là si sono messi a ridere, perché erano stranieri, evidentemente per loro è come se facessero una pista sulla savana. Probabilmente in Kenya o in Somalia le strade, quelle poche magari che ci sono, sono meglio tenute. E le altre sono strade per i villaggi e questa sembra una di quelle. Va bene. Arrivederci. Venite Alessandria.